Distrazione. Indiretti o indiretti connessi a questo servizio. L'opinione spessa dei relatori non necessariamente rispecchino quelle di TIC1000 a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% o il 76% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD. Rispettivamente con TIC1000 UK LTD e TIC1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, secondo webinar insieme a Luca Giusti. Questa sera parleremo di bias sul mercato valutario, però prima di entrare nel vivo come sempre c'è la presentazione del broker che rappresento che è appunto TIC1000. TIC1000 è un broker non di indesk. Significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidi provider e regolamentato dalla FCA UK con fondi segregati separati dalla società e assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,20 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Lo spread parte da zero con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono recuote e nessuna limitazione sulle strategie. Potete utilizzare quelle che ritenete più opportuno come scalping, arbitraggio, chi più ne ha ne metta. e non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. TIC1000 offre tre conti, il conto di punta e il conto pro, che ha commissioni a partire da due per ogni 100.000 negoziati, quindi per un lotto di euro-dollaro sono 4 euro run-turn. Ovviamente la commissione è proporzionata alla size aperta e con il conto VIP, dove il saldo minimo è di 50.000, addirittura la commissione è la metà rispetto a quella del conto pro. TIC1000 opera sotto esma, quindi la leva è limitata per i clienti retail a 1,30, mentre per i clienti professionali può arrivare fino a 500. A proposito della leva, visto comunque il periodo di, se vogliamo, anche di direzionalità che è arrivato soprattutto sul cambio principale euro-dollaro, ho visto molti miei clienti in difficoltà, e ad altri molti trader, e comunque vogliono aprire anche il conto con TIC1000, che non appena sentono che la leva magari arriva a 1,30, non mi dicono, guarda, io purtroppo non riesco ad operare con queste leve. Ma se ci pensiamo, e io qui ho fatto una tabella per spiegare un po', un esempio su euro-dollaro, ad esempio se io ho un capitale di 1000 dollari e vado ad aprire una posizione massima, quella consentita dalla sottodisposizione ESMA, quindi sarebbero in realtà 3.000 lotti, con un valore in pips di 3 dollari, se noi iniziamo ad arragionare in margini di pips, quella posizione con quel capitale mi permette di avere un margine di circa 330 pips, e non ho considerato nemmeno lo stop-out che arriva al 50% della margin call. Quindi, ad esempio su euro-dollaro, nelle ultime sette sessioni, sul daily si è fatto circa quattro figure di rialzo, sarebbe stato nato in stop-out con anche la leva 30, quindi già la leva 30, a mio avviso, è quasi impossibile lavorare sui mercati, è molto molto pericoloso, quindi non vado nemmeno a fare l'esempio su leva 500, perché sarebbe assurdo, vi faccio vedere soltanto il margin in pips, che è di appena 20 pips, quindi occhio alla leva. Questi un po', invece, sono i server, la mappa dei server di TIC1000, i più importanti in Norvirginia, Londra e Tokyo, poi ci sono altri di backup, potete comparare in qualsiasi momento l'offerta di TIC1000 con spread e commissioni incluse con altri broker a livello globale e dal sito di MyFXbook noterete come sempre, quasi sempre, gli spread e le commissioni di TIC1000 siano le più basse in assoluto. Grazie a queste caratteristiche, TIC1000 è stata premiata per diversi anni, in primis come broker migliore per esecuzione nel 2018, questo signore qui che vedete stringere il premio è l'amministratore delegato Duncan Henderson, nel 2019 come miglior broker, come piattaforma di trading e come miglior broker, e nel 2020 come migliore esperienza di trading. Ok, allora io ho concluso la presentazione del broker e Luca, io ti interrompo la mia condivisione e ti lascio condividere il tuo monitor. Sì, arrivo subito, guarda. Dovreste vedere il mio monitor condiviso adesso. Perfetto, lo vediamo. Intanto grazie a tutti gli spettatori presenti live, grazie a questo caldo e siamo ormai in clima estivo. Vi ricordo sì che siamo, ho avviato la registrazione quindi non dovrebbero esserci problemi e anche poi sulla pagina Facebook di TIC1000 Italy. Io leggo le domande, Luca, poi nel caso anche tu dovresti comunque leggerle nel caso che sia una domanda pertinente a quello che stai spiegando magari ti fermo un attimo e facciamo un po' il punto della situazione ma comunque verso la fine daremo un po' tutte le cercheremo di rispondere un po' tutte le domande. Sulla leva, Massimo dice ben detto bisogna lavorare a leva inversa, Massimo 1-1, assolutamente. Sì, io mi aggiungo una cosa che magari in quella statistica potevi mostrare quanti minuti dura un conto usando leva 500. Magari hai questa statistica e vediamo proprio in minuti la sopravvivenza di un conto da 1000 dollari con leva 500. Dovrei usare secondi. Non arriviamo a 10 minuti, credo. Va bene signori, buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti. Sono le 7.10 in questo momento. Sono Luca Giusti e vi terrò accompagnare nella prossima uretta per parlarvi di bias sul mercato valutario. Se non sai cos'è un bias non ti preoccupare, tra poco sarà un pochino più chiaro. Grazie a Giuseppe per la tua presentazione. Direi, cerchiamo di contenere un po' tutte le domande alla fine un po' del primo blocco. Vedrete che ho diviso la presentazione in tre parti. Cerchiamo magari di accorpare un po' le domande in coda a ogni blocco, così se Giuseppe è d'accordo potremmo fare un piccolo momento di domande e risposte in coda a ciascuno di questi tre blocchi. Insomma, il primo sarà quello più corposo, poi gli altri due saranno invece quelli un pochino più rapidi, più veloci. Ora, com'è che iniziamo questa sera? Beh, c'è il solito disclaimer che vi chiedo di leggere. Io mi chiamo Luca Giusti e qua, diciamo, in questo momento vesto i ruoli di educatore, in realtà sono un trader da qualche anno che mi occupo anche di formazione, oltre che di fare trading e stare sui mercati. Quello che vi raccomanderò sempre, insomma, da educatore, ma anche da trader, è di fare molta attenzione alla leva che utilizzate, per tornare un po' sul discorso che pensavo Giuseppe prima, di approcciare sempre le cose con grande umiltà, perché il rischio di farsi male è abbastanza alto, ci vuole veramente poco ad approcciare le cose, a vedere un po' superficiali, a fare dei danni. Quindi fate sempre molta attenzione a quello che fate, specie su dei mercati come il mercato valutario, in cui lavoriamo strumenti che hanno le ventrinseche abbastanza elevate, come ad esempio i cambi o i cross. Ora, l'argomento di questa sera, di questo webinar, è come fare per individuare e analizzare dei bias su cambi e cross. Vi definisco subito cos'è un bias. Il bias è una tendenza che si ripete con una certa sistematicità, quindi potrebbe essere una tendenza dei prezzi a salire piuttosto che a scendere, che ritrovo su quel tipo di strumento, quel cambio o quel cross, ritrovo ripetuta con una certa sistematicità nel corso del tempo. Quindi, quando parliamo di bias, abbiamo sempre a che fare con il tempo, come grandezza, come variabile, e con qualcosa che si ripete con una certa frequenza, una certa sistematicità. Un bias potrebbe essere legato ad esempio a certi orari del giorno, legati ad esempio a un certo cambio. Oggi parleremo in particolare di strina contro dollaro. Potremmo individuare un bias in un comportamento rialzista, diciamo nella parte centrale della giornata, ribassista nelle prime ore del giorno. Possiamo parlare di bias legati ad esempio a certi giorni del mese, quindi individuare magari una tendenza in una certa parte del mese, dei prezzi a salire e invece a scendere in un'altra parte del mese. Oppure possiamo parlare più in maniera estesa di bias legati a certi periodi dell'anno e allora si parla spesso di stagionalità più che di bias. Esistono anche sul mercato valutario, magari sul finale, diciamo qualcosa anche su dei fenomeni di stagionalità legati al mercato valutario, quali sono un po' le ragioni che ci sono dietro a questi fenomeni di stagionalità. Io spero che mi sentiate bene da casa, non vedo messaggi particolari in chat, quindi direi che posso procedere un po' con i lavori. Ok, procediamo allora con il primo tipo di bias che voglio presentarvi questa sera. Questo bias è un bias legato al giorno del mese, io l'ho chiamato end of month effect, quindi è l'effetto un po' del fine mese sul cable. Il cable sapete che in gergo un po' è come si chiama, fra cambisti la sterlina contro dollaro. Questo bias, vedete, fa riferimento proprio a uno specifico giorno del mese, infatti qua sotto ho indicato tutti i giorni del mese da uno, in questo caso dal primo giorno al 31. Chiaramente noi tutti i mesi hanno 31 giorni, qualcuno ne ha 30, qualcuno ne ha 28 come febbraio, quindi adesso vedremo come fare per poter utilizzare questa informazione che deriva da questa analisi. Questa è una piattaforma che vi farò vedere più tardi, che abbiamo sviluppato internamente, l'abbiamo chiamata Data Analyzer, praticamente ci aiuta a conoscere un pochino meglio una serie storica. L'avete già intravista nel webinar precedente quando ho fatto quelle analisi per capire la natura che ha un mercato, quindi per effettuare quei test di trend stazionalità, quei test dove ho calcolato l'esponente di ARST. Bene, quei test lì che ci servono per capire se quella serie storica ha un carattere più squisitamente miraverting o trend following, vengono fatti con questa stessa piattaforma che abbiamo creato per caricare una qualunque serie storica e capire un po' che cosa c'è dietro. Una delle cose che possiamo comprendere di quella serie storica è se esistono dei bias che possiamo sfruttare. Questo ad esempio è un bias che è piuttosto evidente su steorina contro dollaro, rialzista nelle ultime giornate del mese, qua si vede piuttosto bene, e ribassista invece nelle prime dieci giornate del mese. Durante il mese ho altri cluster di qualche giorno rialzista e ribassista, però sono difficilmente sfruttabili in quanto sono molto più brevi. E' molto invece ben delineato questo che c'è proprio a cavallo del fine mese, rialzista nelle ultime giornate, e ribassista nelle prime giornate. Cerchiamo di capire quanto questo bias è capiente, quanto è sfruttabile, e se effettivamente possiamo utilizzarlo all'interno di una strategia meccanica, di un trading system, di un expert advisor. Insomma, tante maniere abbiamo per chiamare la stessa cosa, parliamo sempre di trading algoritmico sistematico. Questa è la strategia codificata in linguaggio naturale, poi sta a voi, se vorrete codificarla direttamente in un expert advisor per la metatrader, so che Giuseppe ci ha lavorato su, magari sul finale vi raccontiamo un po' se sarà disponibile, come sarà disponibile anche questa strategia già codificata per la metatrader. Ci può codificare in qualunque altra piattaforma, testare in qualunque altra piattaforma, il linguaggio è molto semplice, lo trovate qua di fianco, poi è proprio descritta in poche parole. Io vado ad acquistare sterlina contro dollaro il 28 del mese, o il primo giorno a mercati aperti successivo, il 28 è un festival, una domenica entrerò in questo caso, nella giornata di lunedì. Alle ore 17, qua ho già messo l'orario locale, quindi non ho messo l'orario di New York, che ho usato la volta scorsa, che ha creato un po' di disorientamento, ma non c'è da disorientarsi, sono sei ore di fuorario, quindi bastava prendere l'orario precedente, aggiungere sei ore, e arrivavate a trovare l'orario nostrano, però comunque per rendere le cose un pochino più semplici, ho già convertito tutto in orario local, quindi le 17 l'orario, quindi il nostro pomeriggio è l'orario in cui entriamo in posizione long, quindi acquistiamo sterlina contro dollaro il 28 del mese, o il primo giorno borsistico a mercati aperti, successivo al 28 del mese. Chiudiamo il nostro trade long all'inizio del mese successivo, quindi stiamo in posizione veramente pochi giorni, potrebbe essere un giorno in posizione, se siamo a febbraio, potrebbero essere fino a tre giorni in posizione in un mese che ha 31 giorni. In quello stesso momento che io chiudo il trade long mi metto short e rimango short fino al 10 del mese, quindi è un trade abbastanza lungo che si protrae per circa 10 giornate di calendario, lì alla prima occasione che ho, il 10 del mese, se quella giornata è mercati aperti e la prima candela della giornata chiudo, se invece la giornata del 10 è un festivo, il primo giorno borsistico utile successivo, uscirò da quel trade short. Questo che vedete è l'equity line prodotta da un backtest effettuato su queste semplici regole dal 2014, fine giorni nostri, con un nozionale di 100.000, quindi con il classico lotto. Un equity line, per chi non è tanto avezzo, un po' a questo mondo, potete visualizzarlo, immaginarlo come il saldo del vostro conto corrente se aveste seguito questa strategia in maniera sistematica nel passato. Quindi è un modo per rappresentare l'efficacia di quella strategia. Se il saldo del mio conto corrente sale, significa che la strategia che sto utilizzando è efficace, se scende, significa che non è così efficace. Ora, come faccio a capire effettivamente se ciò che ho individuato, che sembra essere promettente, quindi sulla base di quell'analisi iniziale che ho fatto, ho individuato un bias, una tendenza, che sembrava interessante sulla sterlina. Quando ho codificato la strategia e l'ho testata, come nella slide precedente, ho visto che c'è qualcosa di buono. Ora, ma da qui a dire che posso utilizzare quella strategia, c'è qualcos'altro da fare oppure è già così utilizzabile? Purtroppo non è così semplice fare trading algoritmico-sistematico, in quanto adesso che ho trovato qualcosa che ha funzionato in passato, beh, non basta, non posso farci affidamento puntando sul fatto che continuerà a funzionare altrettanto bene anche in futuro. Ci piacerebbe, ma purtroppo non è così. Devo poter validare questo risultato, devo capire se questo risultato è sufficientemente affidabile per poterci poi mettere sopra dei soldini veri e fare trading con questo tipo di strategia. La strategia è molto semplice, questo depone a suo favore, però ha uno svantaggio, che il numero di volte in cui riesco effettivamente a trovare questo tipo di bias, di comportamento, è limitato. Io ho analizzato la serie storica di sterlina contro dollaro dal 2014 ad oggi, sono in tutto 130 mesi, quindi ho 130, infatti non 130 mesi, ma sono in tutto 130 le operazioni che posso fare fra trade long e trade short per questo tipo di strategia. Sono circa sei anni, più o meno di sei anni qualcosa di storico che posso andare a utilizzare. Come faccio a recuperare quindi qualche operazione in più per avere più materiali, più storico, più operazioni da poter analizzare per recuperare se c'è affidabilità oppure no in questo tipo di strategia. Ho due maniere per recuperare altre operazioni, per cercare di validare questo risultato. Una prima maniera si chiama auto sample in sample validation, praticamente vado a cercare di estendere il mio backtest, la mia analisi su dei dati ulteriori. Chiaramente io ho utilizzato la serie storica fino a circa i giorni nostri e potrei andare a utilizzare una porzione di dati precedente a quella da cui ho fatto partire la mia analisi. Quindi ad esempio cinque, sei, sette anni precedenti al 2014. Questo è un primo modo per andare a recuperare operazioni e per fare un controllo, un'analisi e verificare se questa strategia ha funzionato bene anche su dei dati su cui non è stata sviluppata. L'ho sviluppato negli ultimi sei, sette anni e voglio vedere nei sei, sette anni precedenti se questa strategia ha continuato a funzionare bene, ha prodotto risultati in linea con quelli che ha prodotto nel periodo successivo. Questo si chiama In Sample, Auto Sample e Validation perché divido i dati in due porzioni. La porzione In Sample che è quella che utilizzo per poter fare le mie analisi, per poter costruire e addestrare la mia strategia. Auto Sample invece è la porzione di dati che ho tenuto da parte per poter effettuare questo controllo e questa validazione e fare un po' la prova del nome, capire se ha continuato a funzionare oppure no anche su questa porzione di dati. La seconda maniera che ho per poterla validare è quella che viene chiamata Multimarket Validation, un'altra tecnica di validazione e si tratta di andare a guardare quella strategia come ha performato su strumenti simili alla sterlina. Il vantaggio che abbiamo nel lavorare sul mercato valutario è che abbiamo tanti strumenti che possiamo andare effettivamente a utilizzare per scoprire se quella stessa strategia, se quello stesso bias o comportamento che si verifica su quel tipo di strumento e se si presenta anche su strumenti simili. Se il bias che abbiamo individuato, questo legato al fine mese, è qualcosa di tipico della sterlina e non del dollaro che è a denominatore, quindi è il numeratore che caratterizza quel bias, io dovrei trovarlo anche su tanti altri cross che hanno a che fare con la sterlina. Quindi andando a cambiare il denominatore, prendendo sterlina contro dollaro canadese, sterlina contro dollaro australiano, sterlina contro dollaro nero-zelandese, se è la sterlina che ha questo bias legato alla fine del mese, dovrei poter trovare questo stesso risultato o qualcosa di simile anche su questi altri cross ottenuti partendo dalla sterlina e incrociandola con una qualunque altra valuta principale. Questo è il tipo di analisi da cui partiremo adesso per cercare di fare una prima validazione del risultato di questa strategia. Ho già raccolto qua io direttamente i backtest, quindi non c'è bisogno di rifarli insieme. Questo è un primo esempio di multi-market validation, questo è sterlina contro australiano, l'equity line che produce rispetto a quella di sterlina contro dollaro è un pochino meno regolare però comunque mi fa vedere che c'è un'aspettativa di guadagno o comunque di profittabilità su questo tipo di strategia. Meglio, un pochettino meglio quella di sterlina contro dollaro canadese, anche qua vedo che c'è un'esposizione positiva che mi fa ben sperare. Potrei andare ad analizzarla su sterlina contro yen o sterlina contro franco, qui il risultato è addirittura migliore rispetto a sterlina contro dollaro, quindi dovessi portare avanti uno sviluppo forse è sterlina contro yen su cui andare magari a orientarmi è altrettanto interessante anche sterlina contro franco come tipo di risultato. Sterlina contro yen produce anche dei guadagni più interessanti in quanto è un cross un pochino più volatile rispetto ai precedenti, quindi sviluppa anche degli average trade un pochino più alti questa stessa identica strategia però buttata anche su degli altri tipi di cross. E infine questa è sterlina contro dollaro e euro contro sterlina, chiaramente per euro contro sterlina dovremo girare la strategia all'expert advisor girarlo al contrario in quanto abbiamo la sterlina questa volta che ha denominatore e non ha numeratore. Girandolo correttamente però anche in questo caso l'equity line il risultato finale è comunque molto interessante e incoraggia a portare avanti lo sviluppo di questa strategia. Personalmente vi dico la cosa che ho scoperto un po' portando questa idea direttamente in codice e buttandolo su altri tipi di cross è che forse esistono cross più interessanti rispetto al cambio principale sterlina contro dollaro su cui utilizzarla. però nella presentazione adesso andremo avanti a farla su sterlina contro dollaro però voi se vorrete un po' la possibilità di poterla usare anche per altri mercati su altri strumenti. Questo però mi dice che questo effetto fine mese non è qualcosa che ha a che fare col dollaro è qualcosa che ha a che fare con la sterlina perché lo ritrovo su tutti gli altri cross incroci di una qualunque valuta con la sterlina e ritrovo questo stesso effetto e ritrovo quella stessa strategia a essere profittevole su tutti questi altri tipi di ambiti. Il secondo tipo di validazione che avrei potuto effettuare era questo invece ovvero era quello di dire vado a recuperare un pochino più di dati storici rispetto a quelli che ho usato quelli che ho usato erano questi dal 2014 al 2020 che avevano prodotto questo tipo di risultato però potevo tranquillamente anche andare un pochino più indietro come storico a recuperare dei dati dal 2007 circa fino al 2014 e quello che avrei ottenuto è questo risultato quindi questo è quello che diciamo viene chiamato il periodo in sample quello su cui ho costruito la mia strategia questo invece che vedete qua nel blocco rosso è quello che viene chiamato periodo auto sample cioè il periodo su cui vado effettivamente a validare quel risultato a capire se posso realmente fare affidamento su quella strategia andando a vedere come si è comportata su una porzione di dati su cui non ho lavorato per costruire la mia strategia. Qui ho trovato un po' di metriche sono assolutamente interessanti capienti anche se volete introdurre commissioni piuttosto che spread bid ask nel fare la vostra operatività slippage e così via comunque 359 dollari di Everest trade per ogni lotto insomma è un Everest trade più che capiente ma deriva dal fatto che il lato short in particolare sta in posizione a diverse giornate quindi non è una strategia intraday veloce mordi e fuggi che sta in posizione poche ore ma questa è una strategia invece dove sta in posizione diversi giorni fino a 10 giornate di calendario per il lato short e fino a 3-4 giornate di calendario invece per il lato long ha una profittabilità quindi un percent profit all'intorno al 60% quindi vedete che non c'ha zecca il 100% delle volte neanche l'80 è circa un 60% delle volte che ha ragione quindi attenti perché quando parliamo di bias molti si fanno un po' un'idea che sia quasi una roba a colpo sicuro purtroppo non è così sui mercati a colpo sicuro c'è ben poco quando arrivate ad avere il percent profitable o comunque un'affidabilità per quel tipo di pattern per quel tipo di idea intorno al 70% già parliamo di valori veramente molto molto alti per strategie semplici chiaro che più vado a complicare la mia strategia più vado a piramidare regole su regole su regole riesco ad alzare questo valore però a scapito di una maggiore fragilità di quella strategia è di una minore probabilità che possa tenere e performare per tanto bene anche su dei dati che non ha mai visto su cui invece ho fittato costruito la mia strategia quel 60% è più che sufficiente per produrre un buon risultato in quanto ho anche un average win average loss ratio quindi un rapporto fra la media dei 3 vincenti e la media dei 3 perdenti che in questo caso è di nuovo favorevole quindi è 1.15 vuol dire che ho ragione il 60% delle volte e le volte che ho ragione guadagni un pochettino di più in media rispetto alle volte che ho tolto quindi vedete che alla fine insomma queste metriche qua alla fine portano un risultato anche graficamente già espresso su questa guettilagna interessante ho un'area qua diciamo dove ho sperimentato un ruotano abbastanza importante così come anche un run up precedente piuttosto violento va accettato qui la soluzione più che andare a introdurre tante logiche tanti criteri per complicare il sistema la cosa migliore da fare in questi casi diventa quello di adattare il nozionale da utilizzare sul prossimo trade in base alla volatilità che osservo sul mercato quindi fasi in cui il mercato è poco volatile mi permettono magari di calcare un po' di più di alzare un po' di più il size quindi passare a 150.000 di nozionali di controvalori in quell'operazione fasi di mercato invece un pochino più volatile mi invitano magari ad alzare un po' il piedino a lavorare con 50-60.000 quindi già qui avrei spento con questa volatilità un po' i drawdown qua in questa parte del grafico questo è un criterio spesso sul Forex che si utilizza magari lo possiamo approfondire in uno dei prossimi webinar se faremo altri webinar insieme a Giuseppe di Tickmill potrebbe essere questo un tema da approfondire c'era Nino che me lo chiedeva anche su Facebook in questi giorni di poter affrontare anche il tema della volatilità sul mercato valutario un tema assolutamente centrale su questo mercato potrebbe essere interessante recuperare qualche idea anche di money management di position sizing legato alla volatilità per cercare di adattare un po' il nostro approccio la nostra aggressività su quella strategia in funzione della volatilità che leggiamo sul mercato in quel momento che il mio expert legge sul mercato in quel momento in quanto è tutto automatico ok ora forse qualcuno nel vedere un po' le regole iniziali si è posto una domanda e non me l'ha ancora fatta perché vi ho minacciato di aspettare a farmi le domande a metà sessione però potete già farla se volete insomma qualcuno ha visto che entriamo alle 17 ora nostra quindi alle 11 ore di New York qual è il motivo per cui entriamo long dopo il 28 del mese alle 17 perché non entriamo alle 15 piuttosto che alle 8 del mattino e il motivo lo vedete qua su questo grafico questo è simile all'analisi che abbiamo fatto all'inizio però mi va a isolare un altro tipo di bias il primo bias era legato al giorno del mese questo bias invece è legato all'ora del giorno quindi queste espresse qua sotto non sono più le giornate del mese ma sono gli orari della giornata dalle 0 dalla mezzanotte fino alle 23 quindi quello che vedo qui che cos'è è una sequenza di orari rialzisti quindi di sequenze di ore rialziste del giorno che iniziano grosso modo in chiusura della candela delle 11 quindi di qui in avanti è il motivo per cui questo orario di New York è il motivo per cui da qui in avanti quindi dalle 17 orario nostro in avanti dico di andare long per prendere già un primo pezzo favorevole rialzista mediamente rialzista sul mercato così come non ho imposto invece nessun orario per l'ingresso invece short che avviene contestualmente la chiusura del trade long appena gira il mese appena passo sul mese nuovo perché? perché il frammento della giornata più favorevole al lato short è questo qua è quello che inizia grossomodo alle nostre 8-9 del mattino locali che sono le 2-3 di New York e va avanti per 4-5 ore questa qua è la finestra temporale della giornata più favorevole al lato short della strategia ecco perché non ho imposto orari particolari nella strategia iniziale ma quando si chiude long ci si butta dentro short la prima candela che ho disponibile del giorno perché vuol dire entrare grossomodo insomma in queste fasce orarie qua questo è un motivo per cui non lo trovate solamente questo orario sul lato long questo che volete è un altro tipo di bias è un bias legato non più al giorno del mese ma all'orario della giornata potremmo portare avanti un po' lo sviluppo di questo bias in quanto so bene che strategie che stanno in posizione giorni forse non sono mai quelle che hanno il maggiore appeal tra chi inizia a fare trading so bene che chi inizia a fare trading ha voglia di azione di vita quindi vuole strategie che facciano 4 trade al giorno fare 2 trade al mese può essere qualcosa di tremendamente noioso vediamo come fare per aggiungere un po' di un po' di altre chance di poter trovare delle operazioni da fare su sterlina contro dollaro questo è un primo bias molto morbido molto tranquillo io credo anche abbastanza affidabile legato a sterlina legato al giorno del mese questa è una seconda caratteristica per poter invece cercare di costruire qualche operatività intraday cioè rendersi conto che da una certa fascia oraria del giorno cioè dalle 11 ore di New York fino a circa le 17 ore di New York la tendenza che ho che registro che vedo su sterlina contro dollaro è rialzista invece è ribassista nelle prime ore del giorno in questo caso dalle 2-3 ore di New York avanti fino a circa le 7-8 ore di New York se volessimo approfondire un pochino meglio questa analisi quindi andare a guardare cosa succede esattamente in ogni giorno della settimana possiamo farlo con questo tipo di analisi qua questo è sempre Data Analyzer che vi accennavo prima questa piattaforma che abbiamo costruito per fare queste analisi e poi vedo cosa succede in media il lunedì il martedì il mercoledì il giovedì il venerdì qui vedete in questa linea verticale di colore blu è la chiusura della sessione coincide con le ore 17 americane sarebbero le ore 23 nostre ok quindi ogni volta che vedete questa linea verticale qui sono le 23 ora nostra quando c'è roll over insomma per anticipare i mercati Forex quello che vediamo qua che cos'è è colorarsi in questa tendenza media dei prezzi della sterlina ogni giorno della settimana vediamo colorarsi delle aree di colore rosso e di colore verdi che differenza c'è tra queste piccole brevi aree colorate questi segmenti colorati e quelli neri la differenza è che questi colorati sono aree di maggiore affidabilità per quel tipo di bias questo è un viene chiamato anche intraday seasonal o bias infrasettimanali quello che io vedo che il lunedì grosso modo dalle 2 ora di New York fino alle 7 alle 8 ora di New York esiste una tendenza ribassista per sterlina contro dollaro sembrerebbe piuttosto affidabile infanto il tipo di filtro che ho precisato qua io è di andare a prendere le ultime 19 annate di andare a guardare ogni settimana di queste 19 annate cosa è successo in quella fascia oraria e andare a colorarmi quel segmento solamente se osservo una tendenza concorde quindi in questo caso ribassista di una certa magnitudo e questa è la componente trend che dura almeno 8 ore e che ha un'affidabilità pari a una certa percentuale e questo lo voglio ritrovare su ogni settimana di questi ultimi 19 anni e vedo che in effetti in alcune aree non appare in quanto non esiste realmente una tendenza sistematica dei prezzi riesco a scendere ma quello che io vedo qua è un'equity che magari una media che magari sale ma sale con molto disordine quindi ho delle settimane in cui il martedì è rianzista delle altre in cui si scende delle altre in cui si sale non riesco a farci affidamento sopra dove invece si colora quel segmento vuol dire che lì c'è una tendenza sufficientemente sistematica per poterci fare affidamento sopra quanto sistematica ma poco basta un 53% di affidabilità quindi poco più del 50% già per isolare qualcosa di interessante quanto interessante ve lo faccio vedere fra un attimo in quanto è uno spunto ulteriore che vi do per costruire accanto alla prima strategia su Stalina Controdollaro anche altre strategie un pochino più attive per poter lavorare durante la settimana in certe fasce orarie di questa settimana quelle che potremmo testare adesso sono le due tendenze quelle che sembrano più nette ribassiste del lunedì mattina e del venerdì mattina e poi potremmo anche provare a testarne qualcuna rialzista qua a metà settimana nella parte centrale un po' della settimana com'è che faccio a testarle questa è la piattaforma vista dal vivo se volete insomma e questo è il grafico che avete visto prima se voglio testare ad esempio cosa succede il lunedì dalle 2 fino alle 7 quello che posso fare è cliccare qua su test e andare a dirgli che il lunedì voglio partire alle ore 2 e voglio arrivare fino al lunedì alle ore 7 testando un'idea short a questo punto se io vado a fare execute io qua di fianco già se voglio adesso qua sono i vari trade di ogni settimana li possiamo un pochino collassare e qui vedi invece la mia equity line in express in termini di variazioni percentuali oppure di variazioni in punti in pip e qui quello che è successo nelle varie annate andando short dalle 2 del lunedì alle 7 del lunedì tutte le settimane mettendomi short in maniera sistematica vedo che ho una variazione percentuale insomma interessante positiva dei prezzi ho un'affidabilità intorno a circa il 54% quindi poco superiore a quel 53% che avete visto prima di nuovo un average win average loss ratio che è favorevole poco sopra 1 quindi sono un po' le metriche che abbiamo commentato prima insieme vedo tutto sommato che produce un risultato interessante positivo questo tipo di idea potrei costarne tante altre di idee questa è una delle possibili questa qua del lunedì che sembra essere piuttosto sommato interessante questa è quella che ho fatto fino alle 8 l'ho testata anziché alle 7 nella slide l'ho preparata fino alle 8 ma il risultato non cambia anche vedete che è abbastanza simile potevo andare a portare avanti lo sviluppo di questa idea sempre dalle 2 alle 8 però ho aggiunto una condizione qua sotto la condizione che ho aggiunto è di lavorare short il lunedì dalle 2 alle 8 ora di New York quindi restare in posizione short in questa fascia oraria ma solamente se arrivavamo da una settimana positiva quindi se la settimana che si è appena chiusa è una settimana in cui fra apertura della settimana e chiusura della settimana ho visto un'escursione positiva quindi arrivo da una settimana positiva allora faccio il trade short altrimenti salto il trade e rispetto a prima c'è un miglioramento nelle metriche lo vedo anche già direttamente nell'equity line insomma che c'è un piccolo miglioramento vedo che c'è qualche domanda adesso fra un attimo vado a rispondervi potrei provare a testare qualcosa di realfista sulla sterlina contro dollaro in questo caso ho preso come finestra quella centrale della settimana che vi dicevo dalle 19 ora di New York alle 23 ora di New York del mercoledì quindi dovete sempre fare 19 più 6 se volete avere il riferimento corretto oppure 23 più 6 per avere il riferimento corretto per la chiusura per arrivare a orari locali nostri quello che vedo qua di nuovo è un risultato positivo interessante questa volta ho messo un filtro diverso di lavorare solamente dopo una settimana negativa quindi se prima andavo short solo dopo una settimana che si era chiusa in maniera positiva adesso vado invece long solamente dopo una settimana che si è chiusa in negativa e di nuovo servo delle metriche incoraggianti 54% di affidabilità quasi 55 e di nuovo un win-loss ratio favorevole aspetta che intanto rispondo a una domanda Giuseppe che ho visto si ti stavo per interrompere per farti appunto le domande ma vedo che le vedi già le ho messe qua in un angolino quindi riesco a monitorarle spero che non dia fastidio con la registrazione ma dovrei riuscire a vederle un po' anch'io Massimo mi chiede semplicemente che data feed utilizziamo per alimentare data analyzer qualunque data feed nel senso che se tu hai già un data feed quindi hai già dei dati in Excel strutturati in un certo modo li puoi caricare al volo se sono strutturati in maniera diversa da come gli accetti data analyzer compare la prima volta una finestrella dove tu devi aiutare data analyzer a capire cosa c'era nelle varie colonne quindi direi che in questa colonna c'è open in un'altra colonna c'è high low close una volta che l'hai indicato data analyzer si ricorda che quella serie storica è strutturata così la carichi e sei a posto quindi non ci sono problemi neanche a tirare fuori i dati dalla metatrader per caricarle qua dentro piuttosto che a usare altre serie storiche che avete trovato in giro che avete individuato in giro qualcuno mi chiede non vedo il nome ma mi chiede se stiamo usando stop loss o target profit in questo caso no nel caso precedente invece quello della sterlina che vi ho fatto vedere con l'effetto del fine mese lì avevo utilizzato degli stop loss magari dopo li recuperiamo c'era uno stop loss sul lato long a circa 200 pip e sul lato short per 150 pip quindi stop loss piuttosto morbidi ma perché parliamo comunque di una prima strategia che stava in posizione tra 4 giorni per la parte long e fino a 10 giorni per la parte short quindi sono adeguati a questo quindi anche qua impensabile di usare leve troppo alte perché vorrebbe dire accettare poi dei loss a livello monetario importanti con quel tipo di stop in pip calcolati in questa maniera qua chiaramente è molto grezzo calcolare degli stop dei target in pip andrebbero calcolati in base alla volatilità però ripeto per metterli comunque nella strategia nella prima strategia che avete visto sono inclusi già calcolati qui non sono inclusi calcolati perché ripeto siamo ancora in una fase molto preliminare di analisi quindi qui quello che stiamo facendo è passare da un'analisi di una serie storica e lì individuare a colpo d'occhio se esistono dei bias delle tendenze interessanti da sfruttare e come facciamo a testare se ci sono o no una maniera potrebbe essere dire che prendi la metatrader e vai a codificare tu un expert advisor per fare un backtest e capire se c'è qualcosa di interessante di sufficientemente interessante che produci un'equity line positiva qui dentro la analyzer si fa un pochino prima perché non devi codificare nulla semplicemente devi dirgli nella sua maniera che è abbastanza semplice e sintetica devi dirgli da che momento a che momento vuoi stare in posizione di quella settimana quindi dai il giorno e dai l'ora in cui entri dai il giorno e dai l'ora in cui esci e poi qua i diversi feed che puoi andare a utilizzare abbiamo implementati alcuni che sono se arrivi da una settimana positiva se arrivi da una settimana negativa se arrivi da una settimana in compressione piuttosto che in espansione o da una settimana che ha chiuso nel terzile superiore di quella candela weekly o nel terzile inferiore di quella candela weekly ma sono solamente alcuni esempi se abbiamo altre idee possiamo aggiungere e implementare una piattaforma nostra quindi è aperta possiamo andare ad aggiungere tutte le regole un po' che volete da aggiungere da implementare questo era per darvi un po' un'idea di come poter lavorare long chiaramente su sterlina contro dollari i bias più interessanti li avete visto anche a occhio nudo prima sono quelli short piuttosto che quello long però esiste anche un bias long più o meno al centro della settimana che si può in qualche maniera sfruttare questo è il secondo bias short altrettanto interessante nel primo questo si sviluppa il venerdì il venerdì in questo caso è uno short grezzo quindi senza nessun tipo di filtro il venerdì alle 2 ore di New York si entra e si esce alle 8 ore di New York sempre il venerdì se vogliamo aggiungere invece una condizione per migliorare un po' questa equity line si può migliorare basta fare questo trade short il venerdì solo se arriviamo da una settimana positiva precedente è lo stesso filtro che abbiamo usato per il primo bias short e che possiamo usare anche in occasione un po' per questo secondo bias short e produce comunque in questo caso un buon risultato rispondiamo a Ale che ci chiede ah ok ti piace la piattaforma va bene in quanti ci hanno lavorato e quanto tempo è servito per vedere l'operativa allora noi siamo piccolini ecco come QtLab io mi sono presentato io non ho presentato né QtLab che è la società che abbiamo creato in questi anni in cui lavoro e neanche Da Vinci Fintech che è la società che abbiamo creato dove lì il focus è proprio la creazione di piattaforme io creiamo piattaforme per analizzare dati per analizzare trading system ci sono diverse che abbiamo creato questo è Data Analyzer è uno dei moduli di una piattaforma che si chiama Strategy Lab se vai sul sito di QtLab la trovi raccontata in tutte le salse esiste un'altra piattaforma che si chiama Option Lab per sviluppare trading system però su serie storiche di opzioni e esiste un'altra che abbiamo creato di recente invece legata al mondo investing che si chiama Invest Studio e permette di usare dei modelli quantitativi applicati al mondo investing quindi sono diverse piattaforme che abbiamo creato sotto un ombrello che si chiama Da Vinci Fintech che è la società che ha sviluppato un po' tutto questo la parte invece Education è quella legata un po' alla formazione e viene sviluppata come mondo QtLab questo era un po' per darti un po' un inquadramento su chi l'ha fatta quando l'ha fatta sulla base di quali indicazioni c'è un team di persone sono programmatori in questo caso questo è C Sharp come tipo di linguaggio per costruire insomma software quindi vedi che non è tanto raffinato da un punto di vista grafico ma a noi serve la sostanza serve l'analisi non serve avere le icone belline con i rigori lo sviluppo è fatto in C Sharp la parte di progettazione invece è fatta da me è fatta da altre persone insomma ci avremmo un pochino dentro c'è il tentativo un po' di unire l'anima dell'esperienza sui mercati l'anima dei trader con l'anima invece di chi è molto bravo a fare queste cose a programmare queste piattaforme a creare un po' questi oggetti simpatici insomma che ci fanno comodo poi per creare strategie andando avanti un po' al lavoro a un sito di data analyzer c'è magari poi potete scrivere anche in privato direttamente a Luca ti chiede quanto costa appunto il data analyzer è tutto sul sito guarda se vai sul sito di Cuti Lab sì sul sito di Cuti Lab ci sono i prezzi ci sono le modalità di noi data analyzer in particolare abbiamo scelto una modalità che è una licenza lifetime quindi la compri e rimane tua per sempre con i futuri aggiornamenti che verranno rilasciati altre piattaforme invece si basano su un noleggio quindi una quota annuale o mensile in questo caso data analyzer è molto easy nel senso che è una piattaforma semplice però che dà molte idee su cui poter lavorare che si compra una volta solo e poi rimane tua ma costa poca centra di euro quindi niente di che vai a vedere sul sito che travi un po' tutte queste informazioni straordinario Luca e poi sull'ora indicata dei test scusami se ti ho interrotto però l'hai già specificato parliamo dell'ora di New York in realtà parliamo dell'ora della serie storica che tu carichi quindi se tu stai caricando serie storiche che sei abituato a analizzare o che hai esportato con l'orario italiano tutti gli orari che tu vedi in piattaforma sono italiani io sono abituato a lavorare con i trading system solo su ora di New York le mie macchine sono sincronizzate tranne questa qua che è quella che uso per le presentazioni ma le macchine di produzione sono sincronizzate su ora di New York quindi tutte le serie che esporto io sono esportate con orari di New York in realtà se uno esportasse serie dalla MetaTrader che sono orario local qui vedrebbe gli orari local quindi in questo caso mi chiedo scusa ma ecco gli orari sono di New York ma perché tutte le serie che ho su questa macchina sono targate diciamo taggate su orario di New York ma è assolutamente così una scelta non dipende dalla piattaforma o dal fatto che è esterofina la piattaforma analizza quello che voglia di dati in pasto quindi se gli orari sono europei analizzare a quello questo era il secondo bias ribassista che abbiamo analizzato insomma vedete come potremmo stare qua e trovarne altre 5 6 di bias su stranina contro dollaro e trovarne altre tanti su altri cambi su altri cross non ho preso stranina contro dollaro perché si trovano cose interessanti si trovano un po' su tutti gli strumenti questi bias sono delle tendenze che troviamo su tanti tanti mercati diversi non solamente il mondo valutario forex ma anche altri mercati commodity stazionario chiaro che non sempre hanno un'affidabilità sufficiente per poter poi essere utilizzati quindi quello che bisogna fare sempre è questo tipo di analisi per capire effettivamente qual è la capienza e se riesco ad affogarci dentro a questo tipo di bias di strategia ad affogarci i costi di transazione che ci sono sempre quindi commissioni slippage e tutto questo va fattorizzato sempre per capire se quel bias poi è capiente se lo posso realmente utilizzare questo è il terzo blocco della serata dove andiamo a di nuovo ampliare un po' la nostra osservazione siamo partiti a cercare dei bias delle tendenze legate al giorno del mese siamo andati un pochino più in dettaglio a guardare se esistevano dei bias legati a certe fasce orarie durante la settimana quindi certi giorni in cui avevo una fascia oraria che era rialzista certi giornati in cui era rialzista qui invece torniamo a zoomare un po' in maniera più estesa sull'intero anno quando si analizzano si cercano dei bias su degli orizzonti temporali di settimane o di mesi si parla non più di bias ma di solito di seasonal questo è il grafico stagionale di sterlina contro dollaro vedete come per sterlina contro dollaro sia un pochettino più difficile parlare di stagionalità nel senso che di nuovo vedo queste aree colorate che si ripresentano quando io vado a stringere un pochino le maglie e vado a dirgli fammi vedere solamente rispetto alla tendenza media che ha avuto sterlina contro dollaro in questi ultimi 19 anni vai a prendere solamente quei segmenti dove ho avuto un numero di annate pari al 75% concordi quindi vuol dire che di 19 annate dove c'è il segmento che si colora io li voglio averne visti almeno il 75% di queste 19 concordi quindi girate dalla stessa parte di una certa con una certa magnitù di una certa entità e con una finestra che sia almeno pari a 5 settimane io tendo a non analizzare troppo volentieri delle stagionalità troppo brevi in quanto è troppo elevato il rischio che siano che sia frutto un po' di data mining di rumore non sia qualcosa di realmente così significativo quindi di solito si sale sopra le 3-4 settimane meglio se 5-6 quindi quello è diventa una finestra stagionale di circa un mesetto che comincia ad essere affidabile e interessante non è mica detto però che siano sfruttabili in quanto quello che di solito è un po' il problema nel realizzare le finestre stagionali e che si hanno poche operazioni poche osservazioni su cui poter fare un po' di statistica in questo caso se parliamo di una finestra stagionale come quella che sembrerebbe essere quella ribassista qua di maggio beh quanti osservazioni ho avuto in passato solamente 19 sono 19 anni e maggio capita una volta solo all'anno quindi quella finestra di circa 3-4 settimane che vedo lì è una finestra ripeto che è apparentemente interessante però è limitata solamente a 19 osservazioni quindi ogni volta che approccio un'analisi basata sulle stagionalità sul mercato mi serve andare a recuperare una motivazione dietro a quella stagionalità se la trovo se trovo qualche cosa che può spiegare quel tipo di stagionalità allora possiamo forse prendere in considerazione quel tipo di analisi qui vedete come i segmenti che escono fuori sono qui a maggio sono grossomodo qua inizio luglio c'è un rialzista a ottobre un altro più breve rialzista qua a fine novembre poi c'è un altro ribassista qua invece a dicembre questo che vedete però in nero un po' più spesso è la tendenza media annuale quando invece questo fascio qua di curve un pochino più chiare grigie in sottofondo è l'andamento di ogni singola annata in queste singole annate qui vado a vedere posso andare a vedere qual è stata l'annata più correlata a quella in corso rispetto a quello di Erna che è il 2020 e il 2014 quello un po' più simile e posso anche andare a vedere l'anno scorso 2019 quindi vado a sottolineare Highlight 2019 questa linea qua rossa posso vedere com'è andata nell'anno scorso poi sul mercato realmente quindi questa tendenza di fine anno ad esempio ribassista si è veramente verificata anche lo scorso anno sembrerebbe di sì comunque c'è stato uno sviluppo positivo questo è per mostrarvi come a volte la media delle 19 annualità possa davvero trarvi molto in inganno pensando che si svilupperà sul grafico una tendenza così nitida marcata ribassista rialzista in realtà quello che succede è quello che noi vediamo qua nel grafico questi qua grigi queste curve graficate qua dietro questo è quello che succede realmente ogni anno ed è tutt'altro che così sistematico rispetto a quello che invece osservano nella tendenza media qua nera quindi fate attenzione perché le stagionalità non vanno analizzate pensando che stelle durante l'anno si muoverà esattamente in questo modo ma ci sono solamente alcune porzioni di questa tendenza media che sono realmente sfruttabili perché in quelle porzioni osservo una tendenza sufficientemente affidabile dei prezzi a muoversi nella stessa maniera quindi qui c'è stato un numero di annate dove il prezzo è sceso sufficiente a poter dire a poterci fare affidamento sopra quanto sufficiente è un 75% delle volte cioè di queste 19 annualità circa 3 annualità su 4 hanno visto i prezzi scendere ma in questo segmento nero che scende con l'altrettanta violenza non posso dire nulla qui sicuramente il valore è inferiore rispetto a questo perché non si è colorato ok? questo è molto importante per fare un analisi di stagionalità ora quale potrebbe essere il motivo per cui i prezzi della sterrina a maggio piuttosto che a luglio piuttosto che in altri momenti le lano tendono a scendere beh un primo effetto l'abbiamo visto all'inizio c'era questo end of month effects che dice che a inizio mese sterlina per circa 10 giorni vede i suoi prezzi scendere in effetti sembrerebbe che inizio maggio e inizio luglio si aggiunga anche una componente in più stagionale a quella tendenza vista prima quindi quell'effetto di fine mese che faceva sì che negli ultimi giorni la sterlina saliva e nei primi 10 giorni scendeva questo effetto potrebbe essere amplificato a maggio e a luglio da una qualche componente stagionale quindi quella discesa a maggio e a luglio potrebbe essere molto più accentuata e molto più sistematica ora dicembre invece non si verifica a inizio mese quindi bisognerebbe capire qual è la spiegazione per cui dovrei a un certo punto intorno al 17-18 dicembre mettermi short su sterlina contro dollaro e chiudere il trade poco prima di Natale una motivazione in realtà c'è sul mercato valutario questo è esattamente il backtest fatto come prima dal 18 dicembre al 24 dicembre short per sterlina è molto affidabile ha quasi un 89% di affidabilità quindi di trade di annate vincenti rispetto alle altre ha un rapporto favorevole win-loss ratio è molto interessante e promettente come mai a fine anno potrebbe essere questa stagionalità un pochino più interessante affidabile rispetto ad altre tendenze stagionali su cui magari non avrei tanto puntato come questa qua di Alfista che c'è qui o che c'è qui ma mai questo è così interessante il motivo qui magari Giuseppe è un pochino più pratico di messo queste cose ha un po' più di cultura da cambista io non nasco come cambista sono un trader sistematico che semplicemente ha aggiunto anche il mercato valutario un po' ai mercati che segue e su cui lavora abitualmente però una cosa che si dice spesso sul mercato valutario è che una delle dinamiche un pochino più affidabili le ritrovo a fine anno in quanto c'è una componente sui cambi che arriva anche dal mondo aziendale ci sono in alcune fasce in alcune giornate dell'anno in alcuni momenti dell'anno c'è da chiudere dei bilanci in questo caso a fine anno è probabile che una parte di aziende che lavora commerciando in valute diverse da quella propria inattiva tenda a chiudere quelle operazioni in valuta diverse dalla sua per riportarle nella valuta sua per poter chiudere quel bilancio con dei valori evitando delle delle alchimie contabili per poter valorizzare quelle poste quella merce che ha ad un cambio che avrebbe calcolato a fine anno quindi chiudono prima queste operazioni questo potrebbe essere una delle ragioni che spiega la maggiore affidabilità che c'è di questo tipo di pattern stagionali su alcune valute come sterrina contro dollaro questo che vi sto facendo vedere ma ce n'è un altro molto simile anche su euro contro dollaro che ogni anno io trado è proprio a cavallo di Natale ed è un altro pattern molto affidabile che si ripresenta con una certa affidabilità o ha delle ragioni per cui si verifica il letteratore proprio legato un po' a queste dinamiche legate un po' anche al mondo aziendale purtroppo non ci sono tante altre dinamiche che posso sfruttare stagionali con una qualche motivazione dietro nel mercato delle valute dei cambi dei cross a differenza invece di quello che potrei fare nel mondo delle commodities dove invece questi pattern queste stagionalità sono molto più affidabili e riesco quasi sempre dietro a trovare anche delle motivazioni che spiegano quelle finestre stagionali se pensiamo agli agricoli ai mercati agricoli piuttosto che energetici esistono delle dinamiche legate al ciclo dei raccolti della semina piuttosto che nel mondo energetico legati a dei trend di utilizzo di domande di offerta per quel tipo di materia prima quindi in quei mercati nelle commodities riesco a sfruttare molto meglio questa stagionalità nel mercato valutario vi raccomando molta attenzione cercate di sfruttarle se trovate una qualche motivazione che vi sembra plausibile che possa spiegare quel tipo di tendenza stagionale questa che vedete è molto breve perché dura poco più che una settimana però vi dico molto affidabile affidabile è la motivazione che spesso si aduce per questo tipo di stagionalità è quella legata al fatto che una parte del mondo produttivo una parte delle aziende tenderà a fine anno a effettuare delle operazioni più o meno tutte quante simili per in questo caso riportare tutto nella valuta originale in questo caso si vende sterlina si compra dollaro probabilmente per riportare tutto in dollari chiudendo posizioni che siano aperte in sterline ci sono su yen queste cose ci sono su euro e anche su altre valute ok se volete approfondire un po' di queste cose poi dopo Giuseppe magari se dopo hai un secondo passiamo sul tuo schermo diamo un'occhiata anche sulla MetaTrader dove trovare un po' di queste informazioni questo che vedete è una videata di un corso che continuiamo a replicare con una certa sistematicità due o tre volte all'anno sono due serate dedicate all'operatività sul TOEG se volete approfondire un po' delle cose che avete visto questa sera e portarvi a caso un po' di trading system un po' di strategie in più rispetto a quello che abbiamo mostrato questo è un corso che adesso replicheremo di nuovo anche a fine settembre ma se volete già registrato qua sulla piattaforma Teachable che usiamo noi per fare didattica online lo trovate già registrato sulle precedenti edizioni con tutto il materiale didattico con le strategie eccetera verrà replicato questo corso il 30 di settembre sono a metà settimana se non ricordo l'altra settimana qual è era ecco il 30 di settembre il 7 di ottobre sono due serate collegate online live in cui potete farmi domande vediamo un po' insieme di portarci a caso un po' queste sei questi sei trading system declinati poi su diversi cambi e cross per iniziare un po' a fare quello che stiamo facendo un po' a queste serie insomma questo è un po' un assaggio di quello che c'è in quel corso lì Top Analyzer ve l'ho già fatta vedere ve l'ho già presentata sul sito trovate un po' di informazioni in più non tutti lo sapete qualcuno forse l'ha gelato qualcuno no ho scritto anche un libro qualche anno fa che si chiama 3D Meccanico lì c'è un capitolo dedicato al Forex se volete dategli un po' un'occhiata per approfondire un po' di alcune di queste cose io Giuseppe ho finito nel senso che erano un pochino erano un po' i temi che volevo sviluppare questa sera se c'è qualche domanda direi che adesso è il momento ufficiale per farlo sì allora non andate via perché vi devo dire come reperire il materiale che stiamo presentando in questi due webinar perché nel primo abbiamo parlato di un expert che girava su AudiCAD l'abbiamo terminato insieme a Salvatore quindi gira sulla MT4 e anche l'indicatore che va a intercettare un po' quella che era diciamo la volatilità media giornaliera quindi poi c'è anche la registrazione del primo webinar sempre su TIC1000 e anche questo sul bias del cable Salvatore mi ha dato l'ok proprio oggi sulla appunto sulla messa diciamo così in sicurezza dell'expert perché è andato un po' a controllare eventuali bug e quindi dovrebbe essere anche questo disponibile e quindi Luca se sei d'accordo mi prenderei lo schermo perché vi dico dove lo posterò dove posterò proprio una cartella dedicata a questi due webinar ma poi ce ne saranno altri due che ho concordato con Luca quindi lo faremo sicuramente a settembre perché ad agosto ovviamente è un mese in cui siamo un po' tutti in ferie e ditemi solo se vedete il mio monitor così vi faccio vedere è arrivato perfetto allora non so se domani però comunque sicuramente in settimana verrà postato sul canale telegram che si chiama working forex quindi iniziatevi già a iscrivere visto che comunque è gratuito un gruppo di oltre 1100 trader su questo canale qui andrò a postare una cartella dedicata appunto ai webinar che abbiamo spiegato quindi con l'expert su audicad questo su bias su sterlina dollaro si sterlina dollaro e poi l'indicatore sempre sulla volatilità questi verranno messi su working forex ve lo scrivo anche in chat non so se si vede bene nello schermo tra l'altro Giuseppe se non sbaglio l'altro indicatore che abbiamo mostrato la prima serata quello sulla forza relativa quello era già disponibile per i clienti Tickmill giusto? Sì quello è il termometro forex è già stato comunque sviluppato e tutto questo materiale qui viene dato sia per i conti demo Tickmill e conti real quindi con i conti demo potete fare tutte le magari le prove che del caso soprattutto sugli expert quindi non vi lanciate magari subito in real magari fate tutti i vari controlli quindi solo su working forex verrà sarà possibile scaricare questi expert da nessun'altra parte quindi non li invio via email o quant'altro quindi iscrivetevi su quel canale lì perché altrimenti poi non riuscirai ad averli ok questa era un po' la parte dedicata appunto a come avere questo materiale che abbiamo comunque presentato Luca ci sono un po' di domande allora un po' su forse su facebook ciao a tutti complimenti per il webinar molto interessante è possibile fare un successivo webinar dove si parla come gestire inserire e ruotare diverse strategie all'interno di un portafoglio grazie del feedback Cristian magari riusciamo a farlo poi c'era una domanda su quello che hai spiegato se era possibile utilizzare un training stop se avevi già impostato una strategia del genere allora non non c'era già dentro la strategia perché non sono un grande amante dei training stop nel senso che spesso quando li applichi a dei training system vedi che quasi sempre peggiora notevolmente il risultato quindi non li uso granché però è uno stop come un altro quindi si può tranquillamente inserire in qualunque strategia l'importante è che testiate prima se quel training stop ha una qualche efficacia se migliora quel risultato se rende un pochino più controllabile quel risultato oppure se invece qualcosa che fa più danni che altro in questo caso o va tarato diversamente o dovete trovare un qualche altra forma di controllo del rischio Perfetto e mentre per quanto riguarda le stagionalità Alfred chiede se si potrebbe usare la stagionalità come filtro per una seconda strategia Assolutamente sì ho sempre testata questa cosa però se io osservo una tendenza stagionale abbastanza lunga l'ideale sarebbe trovare durante l'anno diverse tendenze stagionali che si alternano di modo da poter far operare quella strategia in maniera concorde a ogni tendenza stagionale spesso non c'è questo lusso ma spesso ne trovi due o tre buone durante l'anno in quelle strategie in quelle finanze stagionali buone potresti limitare l'operatività della tua strategia solamente in accordo a quella stagionalità quindi se è rialzista vado solo long con la mia strategia se è rialzista vado solo short il resto del tempo vado long e short perché non c'è nessuna stagionalità forte da poter cavalcare fate stata come idea chiaramente per ogni strategia per capire se è migliore però questa è un'idea che è assolutamente utilizzabile perfetto allora vedo che comunque ci sono altre domande ma abbiamo esoguito il tempo a disposizione però iscrivetevi al gruppo Telegram perché vedo che siamo una settantina ancora online quindi partecipanti ma si sono iscritti solo cinque persone quindi vi ho scritto anche il nome del gruppo si chiama Working Forex ve lo iscrivo ma perché sono in spiagge in questo momento sotto l'ombrellone quindi non riescono con Telegram mentre guardano il webinar a iscrivervi poi vedrete che si iscrivono perfetto quindi iscrivetevi poi magari ve lo giro anche via email il nome del gruppo così grazie Massimo che hai postato direttamente il link perfetto bravo no senza la G finale Working Forex vedo un unico Sergei che può essere solo lui un tale Sergei ciao Sergei direi che sei tu vedo qualche altro saluto vedo che mi chiedete altre informazioni sulla piattaforma l'Atenalyzer sul sito di Cutilab sulla destra c'è un pulsantone che dice Strategy Lab date un'occhiata lì a Strategy Lab in fondo a quella pagina lì trovate informazioni con tante videote su cosa è costruita l'Atenalyzer se non lo trovate mi mandate un'email info-cutilab.ch vi do io direttamente il link su cui andare per accedere mi chiedete anche informazioni sul corso Forex scrivetemi un'email vi do tutte le informazioni che volete siamo a posto insomma quindi non c'è non c'è problema stanno dal mio terminale per Tic1000 che è quella di Luca perfetto altre cose ma direi magari se guardatevi il video di questa serata se c'è ancora qualcosa che non è chiaro scrivetemi potremmo anche farci un articolo se volete un po' su questo tipo di strategia magari lo pubblichiamo Giuseppe cosa dici magari qua quest'estate se ho una mezz'oretta di tempo tiro su anche un articoletto così è ancora un pochino più chiaro i vari passaggi che abbiamo fatto dai assolutamente ok perfetto grazie a tutti davvero per essere stati qui anche con diciamo questo caldo e comunque ormai siamo in clima vacanziero e vi do appuntamento al prossimo webinar con Luca che non abbiamo ancora impostato una data ma sicuramente verrà fatta a settembre Luca ti ringrazio per la qualità che hai portato in casa TickMill sono veramente davvero onorato questo webinar è stato interessante come del resto anche quello precedente sicuramente saranno gli altri anche gli altri due grazie grazie mille per l'ospitalità e buone vacanze a tutti al prossimo webinar grazie a tutti buona serata grazie a tutti